Si svolgerà a Celle di San Vito nella giornata di sabato 22 luglio l'inaugurazione della statua in bronzo raffigurante Carlo I d'Angio, cerimonia che sarà presenziata da Lise Mutulumaya, direttrice dell'Istituto Francese di Napoli e console generale di Francia per il Sud Italia. Proprio il re francese Carlo I d'Angio nel corso del XXIII secolo è stato al centro della storia delle origini del comune cellese e a lui si deve la nascita dello stesso. In seguito all'accoglienza delle autorità in municipio e ad un breve convegno, la statua del sovrano sarà svelata in via dei Provenzali con lo svolgimento successivamente prima di un corteo accompagnato da bande e sbandieratori e poi di uno spettacolo pirotecnico. Da evidenziare anche le parole della sindaca di Celle di San Vito Palma Maria Giannini che ha sottolineato l'importanza della testimonianza della console, una presenza che andrà ad onorare oltre che il comune anche la Capitanata e l'intera Puglia.